Dopo l'iniziale entusiasmo per l'elezione di Conchita Martinez in qualità di capitano della nazionale spagnola, la federazione ha deciso di licenziare l'ex numero due del mondo su consenso unanime. A distanza di un mese dalla decisione presa dalla RFET, la campionessa di Wimbledon del 1994, prima tenista spagnola a vincere lo slam british, ha detto la sua sulla questione in un'intervista per Vanity Fair. Il fatto di essere una donna non ha alcuna importanza per il non rinnovamento del contratto, ha dichiarato Conchita riferendosi alla Davis Cup. Nella RFET c'è la politica. Per scegliere il nuovo presidente bisogna fare politica. I voti vanno così, ora ti voto, ma tu mi devi qualcosa in cambio. Sto entrando in qualcosa che non so, ma posso immaginare che sia così. Perché se no, ci sono molte cose che non si capiscono. Affermazioni pesanti quelle della Martinez, che non tiene a bada la lingua e sfata, anche alcuni tabù sul suo licenziamento. Per quanto riguarda la panchina della Davis, avrei potuto immaginare che non avrebbero prolungato il contratto, perché l'anno scorso si parlava, anche di altri nomi, e c'erano diverse persone interessate alla posizione. Al contrario, per quanto riguarda la squadra femminile è stata una sorpresa per me.